Buonasera a tutti, siamo qui per la presentazione del libro di Walter Ricciardi, Sanità pubblica, scienza e politica per la salute dei cittadini. Con noi, come vedete, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Direttore Editoriale della Casa Editrice Vito e Pensiero Aurelio Motto e naturalmente l'autore, professor Walter Ricciardi, professore ordinario di gene medicina preventiva Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora, siamo qui per presentare questo libro, rapidissimamente una piccola introduzione. È un libro piccolino, sono meno di 150 pagine, devo dire molto chiaro, molto divulgativo, ho studiato, come vedete, ho studiato bene tutto quanto e io sono stata folgorata dalla citazione all'inizio del libro, che dice la medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala, di Rudolf Virchow. Allora, nella mia ignoranza abissale, io non sapevo chi fosse Virchow, ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che è uno dei padri della patologia cellulare, dunque uno scienziato, però è stato anche un antropologo, magari qua lo sapete tutti naturalmente chi era, però un antropologo e un politico che nel 48, nel 1848, fu incaricato dal governo prussiano di capire perché c'era stata questa epidemia di febbre petechiale in Alta Slesia. Bene, lui andò e sostanzialmente descrisse la pessima situazione sociale in cui si trovava questa popolazione colpita da questa epidemia, le spaventose condizioni, diciamo, igieniche, che erano alla base di questa malattia. Allora, perché vi dico questo? Perché fu forse una delle prime volte in cui c'è stato un nesso, si è visto un nesso fra scienza, medicina e politiche sociali. Allora, è una però invece delle polemiche che c'è stata in questi anni di pandemia, è stata proprio la eccessiva commistione, è stato detto, fra scienza e politica, però invece dall'altra parte abbiamo visto che un'emergenza sanitaria come questa pandemia non ha impattato soltanto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale che ha rischiato il tracollo, per fortuna abbiamo retto e abbiamo retto molto bene, grazie anche a tutti i medici, tutti gli operatori sanitari, veramente è stata una battaglia incredibile, lo è tuttora, però ha impattato anche sull'economia, nonché sulla tenuta anche delle istituzioni democratiche, perché vediamo che ogni giorno assistiamo a degli episodi che riflettono un malcontento, indubbiamente pregresso, ma che è stato esasperato dalle condizioni sanitarie. Insomma, sostanzialmente c'è un legame fortissimo fra salute, scienza e società, su questo non c'è dubbio, e quindi politica. In questo libro si affronta il problema di quali sono i limiti del Servizio Sanitario Nazionale, compreso quello della frammentazione della governance. Fondamentale è che si ragiona su quali possono essere le modalità di intervento e poi è una cosa molto interessante che mette a confronto i vari sistemi sanitari nazionali. Allora io a questo punto do la parola al direttore editoriale della casa editrice Vita e Pensiero, Aurelio Mottola, perché insomma sappiamo che questo libro si inserisce in una collana. Prego. Grazie. Ringrazio per la premura di avermi chiesto di dire qualche parola a proposito della collana in cui questo libro si colloca, una collana denominata Piccola Biblioteca per un Paese Normale. Questa collana diciamo in qualche modo da un tono al significato del libro. L'idea di questa collana nasce nel marzo dell'anno scorso all'inizio della pandemia, quando apparve chiaro che l'emergenza Covid sarebbe stata una sorta di stress test test per il nostro paese. E le emergenze rivelano sia nella vita personale che nella vita collettiva, rivelano sempre chi veramente siamo, al di là delle apparenze. E così è avvenuto anche per l'Italia nel bene. Pensiamo appunto ai medici, agli infermieri, gli operatori sanitari, al mondo del volontariato, ma l'elenco potrebbe essere ben più lungo, e purtroppo anche nel male. Cioè sono emerse e stanno ancora emergendo criticità sedimentate da decenni, quei blocchi che impediscono al nostro Paese di essere normale, di allinearsi sugli standard europei. Ecco allora il progetto di una serie di saggi, ciascuno dei quali mette a tema gli aspetti problematici di cui stiamo parlando. Debito pubblico, evasione fiscale, burocrazie, mafie, corruzione, declino demografico, lentezza della giustizia. Mi fermo qui risparmiandovi il seguito di questo elenco sconsolante che andrà a costituire poi l'insieme della collana. E si tratta di autentici macigni di un sistema che non appare facilmente maneggiabile, soprattutto se questi nodi critici li consideriamo tutti insieme, perché effettivamente questi costituiscono un problema di ordine sistemico, cioè sono criticità queste fortemente interconnesse. e questa difficoltà a maneggiare questi nodi critici segna una sorta di senso comune caratterizzato da un'accidiosa rassegnazione di fronte a un dato che è considerato, qui parlo del senso comune, come ineluttabile, come se fosse un dato atmosferico, una sorta di disincanto diffuso in un paese depresso al quale però occorre reagire. E questa collana intende per l'appunto affrontare queste criticità attraverso anzitutto un'analisi documentata e schietta dei problemi, attraverso l'individuazione degli interessi che determinano questi blocchi e soprattutto attraverso le possibili prospettive di un loro superamento. Si tratta di quelle riforme eternamente rimandate a causa dell'inconcludenza di una classe politica che non trova il varco per verso quello che si chiama il bene comune. Questa ambizione è mossa da una consapevolezza, questa ambizione di rinnovamento, di cambiamento, non solo nelle storie personali, che non solo nelle storie personali ma anche in quelle collettive è proprio nella distretta che si aprono varchi per il futuro. E certo il Covid è stato ed è tuttora una dura distretta. Ma senza questa distretta non ci sarebbe stato il Next Generation EU con le sue promettenti aperture, con quel cambio di passo dell'Europa che almeno noi in Università Cattolica abbiamo potuto constatare ieri nel bel discorso della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che ha fatto per l'inaugurazione dell'anno accademico. Il PNRR dentro questo quadro è semplicemente un imperativo, un'occasione davvero epocale per il nostro Paese che è solito dare il meglio di sé solo quando si trova a un millimetro dall'abisso. Non programma per il futuro ma messo alle strette si scrolla di dosso questa rassegnazione. Quando si avviano processi, per usare un'espressione cara a Papa Francesco, mossi da questa fiducia, emergono risorse inattese, come sta avvenendo in questo frangente, felice oserei dire, della vita pubblica del Paese. Un Paese pieno zeppo di talenti che ora cominciano ad essere seriamente valorizzati nella gestione della cosa pubblica e che speriamo possano costituire massa critica per il futuro di un rinnovamento della classe dirigente. Io vorrei solo citare quello che il puntuto Economist ha detto, ha scritto qualche giorno fa a proposito dell'Italia come Paese dell'anno e l'Economist dice a causa della debolezza dei suoi governanti gli italiani nel 2019 erano più poveri rispetto al 2000. Eppure quest'anno l'Italia è cambiata. Per una volta un'ampia maggioranza dei suoi politici ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonde riforme. Fa molto piacere sentire da chi ci ha sempre bacchettato negli ultimi anni un elogio di questo genere. Noi abbiamo chiesto a molti di questi talenti che citavo prima di cui è pieno il Paese, abbiamo chiesto di partecipare al progetto di questa piccola biblioteca. La risposta è stata convinta, in qualche caso devo dire il caso del professor Ricciardi è entusiasta, cioè una una risposta immediata e fa piacere che questa collana abbia preso avvio nell'anno centenario dell'Università Cattolica, come a manifestare anche nel piccolo di un profilo editoriale quell'impegno civile che ha caratterizzato il servizio dell'Ateneo al Paese nei suoi cento anni di vita. A dire il vero, la sanità pubblica non è proprio del tutto equiparabile a quell'elenco di criticità di cui parlavo prima, perché la sanità pubblica è stata e in una certa misura è tuttora un'eccellenza del Paese nel panorama non solo europeo ma anche mondiale. E tuttavia proprio gli studi del professor Ricciardi mostrano come questa eccellenza sia un'eccellenza ad alto rischio. Ricciardi lo ha sottolineato da tempo e documentato ad esempio nel libro La tempesta perfetta pubblicata, pubblicato sei anni fa proprio dall'editrice. È ad alto rischio questa eccellenza per, come penso verrà detto dopo, per difetto di risorse economiche, per l'estrema frammentazione in 21 sistemi sanitari regionali, per la carenza della medicina territoriale, per una commissione indebita della politica nella gestione della governance della sanità. Questo libro offre una fenomenologia documentata della situazione e soprattutto propone prospettive praticabili per una manutenzione straordinaria di un servizio sulla cui preziosità sarebbe dilittuoso essere disattenti. Vorrei concludere con le parole con cui termina il saggio del professor Riccardi. Quella post-pandemica può essere veramente l'epoca per un nuovo inizio per il nostro Paese, purché vi sia la volontà politica di farlo. Per questo è fondamentale il dialogo tra politica e scienza, fra ospedale e territorio, fra sanitario e sociale, fra pubblico e privato. Non bisognerebbe mai sprecare una crisi, ma farlo questa volta sarebbe davvero imperdonabile. Grazie. Grazie al direttore Aurelio Mottola. Professor Riccardi. Io ho preparato delle slide, non voglio costringere il ministro al torcicollo. Tu citavi Laura Rudolf Virkow. C'è un'altra particolarità nel rapporto tra Virkow, che è un gigante. Forse se dovessi sintetizzare un unico nome per dire quanto la medicina è stata rivoluzionata, direi lui. Lui aveva avuto e ha avuto un rapporto problematico con la politica, a un certo punto attaccando il cancelliere Bismarck e il cancelliere Bismarck lo sfidò a duello. E quindi ci fu una tensione. Però essendo Virkow la persona sfidata, aveva la scelta dell'arma e lui scelse una salsiccia intossicata dalla trechinella spiralis e Bismarck si ritirò perché sarebbe morto, diciamo, sicuramente avendo mangiato questa cosa. Perché voglio dire questo? Perché io ringrazio moltissimo il ministro. Fortunatamente, e anche per questo è stato scritto questo libro, è un momento in cui politica e scienza e sanità vanno d'accordo. In questi due anni si è in qualche modo consolidata un'amicizia profonda, una stima profonda nei confronti del ministro ed è per questo che scienza, sanità, politica, io credo che in questo momento nel nostro paese possano e debbano andare d'accordo. La prima parte del libro, che è stato concepito e scritto insieme a Chiara Cadeddu, a Annalisa Calabro e a Fidelia Cascini, che sono qui, riguarda proprio la storia del sistema sanitario, i modelli e le esperienze. Quando si parla di politica e di Servizio Sanitario Nazionale non si può che partire da questa persona. Da questo ministro, il creatore, il padre del Servizio Sanitario Nazionale inglese, un ex minatore, un grandissimo leader del partito laborista, figlio di minatori analfabeti, che diceva che nessun paese si può legittimamente chiamare civile se a una persona viene negata assistenza sanitaria perché non ha i mezzi, non ha i soldi per pagarla. E sulla base di questo creò il primo servizio sanitario nazionale. Primo servizio sanitario nazionale gratuito per chi lo usava. Primo servizio sanitario nazionale che non richiedeva assicurazioni. Ma quando fece questa conferenza stampa, vedete che allora non c'era la televisione, c'era la radio, nessuno gli credette. Al punto che in una notte lui fu costretto a stampare milioni e milioni di questi volantini da distribuire in tutte le scuole, in tutte le ferrovie, in tutte le fabbriche, in cui, guardate che cosa dice, il vostro servizio sanitario nazionale comincia domani, 5 luglio del 1948. Che cos'è? Come fate a ottenerlo. Vi fornirà tutta l'assistenza medica, dentistica e infermieristica. Ognuno, ricco o povero, uomo, donna o bambino, lo può usare totalmente o parzialmente. Non ci sono soldi da pagare, eccetto diremmo noi oggi per qualche ticket. Non c'è un'assicurazione da stipulare, ma non è beneficenza, non è una charity. È qualcosa che voi state pagando tutti quanti, cari concittadini, come contribuenti, ma nel momento della malattia vi verranno restituiti. Nel momento della malattia voi dovrete pensare che non vi dovete preoccupare di pagare, non dovrete vendere la casa, non vi dovrete indubitare, ci sarà il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale nacque nel 1948 e nel 1978 è nato grazie a un'altra grande politica e a un momento in particolar modo storico, perché, come voi sapete, in quel 1978 in cui fu rapito e ucciso Aldo Moro, sono ben tre le leggi sanitarie approvate. La 180 sulla riforma psichiatrica, la 194 sulla tutela sociale della gravidanza e la 833 sul Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo dire grazie a questo grande personaggio che è stata Tina Anselmi, allora ministro e madrina, diremmo noi, del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Servizio Sanitario Nazionale che è la più grande opera pubblica del Paese. Guardate, per chi non se lo ricorda, quello che è successo. Nel 1970, non nel 1920, l'Italia aveva un record di mortalità infantile. Morivano 30 bambini su mille. Guardate rispetto agli altri Paesi. Oggi siamo sostanzialmente tra i migliori al mondo. Abbiamo superato persino la Gran Bretagna, che è quella che ha inventato il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 1970 morivano 20 bambini su mille, prima dei 28 giorni di vita. Guardate il percorso che noi abbiamo fatto. Oggi siamo ancora una volta tra i migliori al mondo. Un'opera straordinaria che ha consentito alle madri di partorire in sicurezza, ai bambini di crescere e le vaccinazioni, l'unico effetto collaterale a distanza che hanno è quello della sopravvivenza, cioè della sopravvivenza che ha consentito all'Italia di passare dall'epoca pre-vaccinale, in cui l'aspettativa di vita media alla nascita era 30 anni, a quella di oggi che è sopra gli 80 anni, che naturalmente non è solo per le vaccinazioni, è per l'acqua, è per l'alimentazione, per le condizioni di vita e per la medicina e per il Servizio Sanitario Nazionale. E quindi nella seconda parte del libro noi parliamo di quello che deve essere la governance di questo nuovo Servizio Sanitario Nazionale, che non può che partire dalla programmazione e la programmazione non può che partire dalla descrizione del Paese. È il Paese nostro, è il Paese più vecchio del mondo. Questo che non è a caso si chiama rapporto di dipendenza. Noi siamo stati i primi al mondo a vederlo invertire. Per la nostra denatalità è per il nostro positivo questo, invecchiamento della popolazione. Pensate che questo che noi abbiamo avuto alla vigilia del 2000, gli Stati Uniti l'avranno nel 2050, l'Indonesia l'avrà nel 2090. Noi siamo il Paese più vecchio del mondo, ma questo che cosa comporta? Comporta che sostanzialmente abbiamo, soltanto per comparare in Europa, una quantità di superanziani da assistere che il doppio e il triplo rispetto ad altri Paesi. E quando questa cosa la voglio spiegare alle persone che non hanno dimestichezza con gli istogrammi, la faccio vedere così. Questa era la famiglia italiana quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale, due figli, due genitori, tre nonni. Questo è la famiglia media italiana oggi, un figlio, due genitori, quattro nonni e due bisnonni. Il professor Bernabèi, che oggi si scuta, è in auto isolamento, voleva salutare anche lui il ministro, perché ha avuto un contatto con un positivo, mi dice che però le due persone lì sopra sono due donne, diciamo, non è una o meno, perché sono quelle che vivono di più. Però non c'è bisogno di essere economisti e statistici per capire che questo non è un sistema sostenibile. Non è un sistema sostenibile e non è un sistema equo. Questo è il nostro rapporto Serva Salute, che ormai da vent'anni produciamo, e qui ci sono i protagonisti, ma guardate, su 111 indicatori non ce n'è uno che non si discosti da questa enorme divario tra il sud, molto più indietro rispetto al nord e rispetto al centro. Non ce n'è uno per far capire quanto questa distribuzione sia una distribuzione non equa, al punto che compromette il valore stesso della vita. Questo si è determinato dal 2001, quando è stata modificata la Costituzione. Questa è l'aspettativa di vita media alla nascita, queste sono praticamente tutte le regioni del nord, queste tutte le regioni del sud, è come se queste persone vivessero in un altro paese, come se queste vivessero in Svizzera, in Giappone, in Australia e queste vivessero in Serbia, in Romania e in Bulgaria. Nascere a Napoli, a Palermo, oggi può significare avere un'aspettativa di vita di 4, 5, persino di 6 anni in meno rispetto a nascere nelle Marche o in Trentino. E questa è una profonda ingiustizia da correggere, da correggere grazie a quegli interventi che appunto la politica, io credo, anzi sono sicuro che farà. E questo è, diciamo, sostanzialmente il paradigma contemporaneo. Se non interveniamo c'è una insostenibilità. La tempesta perfetta che avevamo scritto nel 2015 lo preannunciava, la pandemia l'ha in qualche modo enfatizzato in maniera emblematica, ma questa transizione epidemiologica e demografica che vi ho descritto porta a una domanda di salute crescente con un'innovazione tecnologica fantastica, farmaci, vaccini e però anche con una problematica a darli, perché questi costano e naturalmente c'è bisogno di essere in grado di pagarli. Nella terza fase, nella terzo capitolo, parliamo delle risorse umane e della leadership, leadership politica e leadership tecnica. Senza nessuna polemica politica, se andiamo a vedere che cosa si è fatto per la sanità nei passati vent'anni, e lo vedete che sono Presidente del Consiglio bipartisan, molto poco, quasi niente o soluzioni a breve termine. Questi sono Presidenti del Consiglio che hanno tutti tagliato la sanità, chi più chi meno, chi ovviamente in tempi eccezionali, chi in tempi ordinarie. Questo ha prodotto che noi siamo sostanzialmente il Paese che in Europa spende di meno il rapporto al prodotto, soltanto la Grecia spende meno di noi, ma sapete la Grecia che cosa ha passato. Quindi siamo incomparabilmente in condizioni di inferiorità rispetto alla media, ma naturalmente incomparabilmente rispetto ai Paesi come la Francia e la Germania che spendono molto di più. Perché? Che cosa ha determinato questo comportamento di questa leadership di questi anni? Tagli, meno servizi, più pagamenti privati, nessuna efficacia nel breve termine. Ora che cosa dobbiamo fare noi? E questo io credo, anzi ne sono sicuro per come lo conosco che il Ministro ne parlerà. Non c'è più alcun dubbio che dobbiamo investire in sanità, che la politica deve credere nel sistema sanitario come motore naturalmente di salute ma anche di sviluppo, perché ogni euro investito in sanità e in salute ritorna enormemente più produttivo rispetto agli altri. Ma naturalmente, e guardate, questo è di stretta attualità, dobbiamo anche convincere i cittadini a guadagnare salute. In condizioni ordinari significa insegnarli a mangiare adeguatamente, a fare attività fisica, a non bere eccessivamente, a fumare poco. In condizioni eccezionali come la pandemia a vaccinarsi e a vaccinare sostanzialmente i propri cari. E poi la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, la prevenzione, gli interventi precoci, la responsabilizzazione dei cittadini, la riorganizzazione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie. E poi c'è che tutto questo lo dobbiamo fare in un'epoca rivoluzionaria. Le due grandi rivoluzioni sono quelle della digitale e della genomica, che naturalmente insieme agli altri ci possono portare a predire, a prevenire, a diagnosticare, a curare, a riabilitare, a far vivere bene le persone. Ma tutto questo certamente lo possiamo fare con il PNRR, che infatti dedica molta parte dei suoi finanziamenti anche in sanità alla trasformazione digitale. Però questi, che sono sicuramente delle risorse importanti, non bastano. Vedete, per esempio, per la trasformazione digitale. Noi abbiamo perso, e se qualcuno, come è successo agli esperti di digitale, domanda, ma l'Italia tra 0 e 10 dove sta? A meno 1 rispetto a quello che sostanzialmente è stato fatto negli altri paesi. Non è un caso che noi, in questo piano nazionale di ripresa e resilienza, mettiamo più di tutti e tre la Francia, la Spagna e la Germania messi insieme, perché dobbiamo recuperare enormemente questo terreno perduto, ma per recuperare questo terreno perduto non bastano i soldi. C'è bisogno della capacità di spenderli, c'è bisogno della capacità di utilizzarli. Questo è quello che noi facciamo normalmente con i soldi, non quelli del PNRR, cioè siamo rimasti indietro. Mi ricordo che a una sollecitazione che facemmo nel scorso governo c'è stata un'enorme risposta, ma questa risposta deve essere strutturale. Per noi è difficile, perché lo vedete, questa è la cultura, la formazione della nostra popolazione. Purtroppo non abbiamo grandissimo capitale umano, qui ci sono tanti studenti, tanti specializzanti, tanti dottorandi, voi sarete i protagonisti, dovete essere i protagonisti di questa, è quello che ieri ha detto la Presidente von der Leyen, stiamo costruendo questo con voi, per voi, ma voi dovete essere parte attiva. In questo momento questa, vedete, è la posizione dell'Italia, è tutta rossa, è paragonabile alla Turchia, cioè questo capitale umano per spendere questi soldi noi lo dobbiamo in maniera accelerata produrre per l'impiego del PNRR. E infine le sfide per il futuro, fare buona politica e noi crediamo che i grandi nodi su cui agire siano questi, siano il rapporto e la correzione di questo rapporto squilibrato tra Stato, regioni e province autonome, relativi meccanismi di governance e di coordinamento. Lo vorrei dire, nell'aprile del 2020 con il Ministro avevamo fatto un piano per il recupero e anche trovando le risorse per le regioni, quella è stata sciagurata che poi è portata alla seconda o terza ondata, molte regioni non hanno fatto niente, questo non è possibile perché di fatto in quelle regioni i cittadini pagano molto più amaramente i risultati dell'inazione. Il rapporto tra medicina ospedaliera, assistenza premare e medicina territoriale, abbiamo capito che sono tre pilastri importanti, la Lombardia, Docet, se ce n'hai uno straordinario ospedaliero ma ti mancano gli altri poi alla fine hai una mortalità che è superiore rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. L'integrazione tra sanitario e sociale, oggi fanno capo a due amministrazioni diverse, molto spesso in contrasto tra di loro, la regione, i comuni e questo non va bene perché una persona è una persona, non è che parzialmente dipende dalla regione, parzialmente dipende dal comune, devi dargli un'assistenza integrata. Il rapporto tra pubblico e privato, nessun paese può reggersi solo sul finanziamento pubblico e sull'erogazione pubblica, ma a certe regioni questo è esaltato in maniera esagerata e in certe regioni è demonizzato, deve essere più armonico. La strutturazione di un adeguato sistema di prevenzione e preparedness, qui il Ministro sta lavorando moltissimo per far sì che noi non veniamo più colti di sorpresa la prossima volta, la formazione e la gestione delle risorse umane. Vedete che noi non troviamo medici per l'emergenza, non troviamo medici per il pronto soccorso, non troviamo medici che vogliano andare a lavorare nelle aree interne, non troviamo medici che vogliano lavorare nelle condizioni. Perché? Perché è chiaro che se noi non gli diamo delle condizioni di lavoro, delle condizioni di crescita, un ecosistema, una tranquillità, non solo degli stipendi che sono importanti, ma per molti di questi professionisti non sono la prima cosa, noi non avremo la possibilità di assistere i nostri cittadini e la garanzia, ma anche di questo sono sicuro che ne parlerà il Ministro, di un finanziamento stabile, adeguato, a medio termine. Mi avvia la conclusione per dire la parte più importante, come dice Doug Seidman in questo libro importantissimo che io vi consiglio e consiglio a tutti i ragazzi di leggere, è un libro che è stato, la cui introduzione è stata scritta da Bill Clinton, che due volte Presidente degli Stati Uniti ha detto io quando ero Presidente degli Stati Uniti mi occupavo di che cosa fare, ma la cosa più importante è come farla, cioè sostanzialmente come realizzare queste cose. E Seidman dice che per fare un cambiamento, e Dio vuole, se noi ne abbiamo bisogno in questo momento, dobbiamo allineare tutti quegli elementi, la visione in un futuro migliore, le competenze, gli incentivi, le risorse e un piano d'azione. Se ci manca visione abbiamo confusione, se ci mancano competenze abbiamo ansietà, se ci mancano incentivi abbiamo resistenza, se ci mancano risorse abbiamo frustrazione, se ci manca un piano d'azione abbiamo una falsa partenza. Io sono molto orgoglioso di aver lavorato con un Ministro che ha presiduto il G20 e che vi posso garantire in certe circostanze, quando per esempio ha fatto dei discorsi a proposito del guidare il G20 e a garantire la vaccinazione al 70% della popolazione mondiale entro il 2022, quando abbiamo per la prima volta promosso un'alleanza vaccinale per portare il vaccino a tutti gli europei, quando ha promosso il rafforzamento degli investimenti in sanità, quando ha promosso delle misure difficili, impopolari, ma senza mai cedere alle false illusioni, come vediamo in questo momento, che alcuni politici fanno e che poi sono costretti a negare attraverso dei lockdown brucianti, come succederà in Gran Bretagna e come è già successo in Nord Europa. Io credo che in questo momento questa alleanza tra sanità politica, tra scienza e politica ci possa essere, ci possa essere per guidare il Paese verso un futuro migliore, un futuro che non è una destinazione che ci aspetta passivamente, perché se noi non facciamo qualcosa il futuro è distopico, è ineguale, è inquinato, è compromesso, è malato, il futuro non è bello come Roma, come il Lago di Garda, perché il futuro va costruito, il futuro è come un ponte che dobbiamo innanzitutto immaginare e nel libro qualche idea la diamo, ma poi dobbiamo pianificare e costruire e mai come oggi in Italia un esempio concreto ce l'abbiamo, abbiamo costruito in ponte in meno di due anni, un'opera ardita dopo una catastrofe terribile che ha visto in seguito a errori di manutenzione e anche all'avidità di alcuni proprietari, l'abbiamo costruito e in questo momento è forse uno dei ponti più belli, più funzionali e più importanti non solo del nostro Paese, ma del reo d'Europa. Credo che possa essere una buona metafora per l'auspicio per il nostro futuro. Grazie per la vostra attenzione. Grazie al professor Ricciardi. Io invito i relatori a tornare al tavolo, il ministro e anche il direttore Mottola. Allora professor Ricciardi, tanti gli spunti che lei ha dato, volevo però due punti se posso. Uno è, credo di capire, che si auspica un ritorno ad una centralità della sanità superando l'autonomia regionale e l'altro invece al contrario un decentramento a livello territoriale evitando il sistema in cui l'ospedale sia al centro della sanità del territorio. È corretto? Ma non è proprio una ricentralizzazione perché credo che nessuno sarebbe in grado di gestire dal centro un sistema così complesso e ne sarebbe giusto perché è giusto tenere la sanità vicino, diciamo, a chi ne usufruisce. Però sicuramente un rimodellamento dei rapporti ci vuole. Non tanto e non solo per le regioni che funzionano bene, perché se funziona bene voglio dire perché deve intervenire. Ma quanto in questo momento le strutture centrali, il ministero, l'istituto per sanità non possono intervenire se le cose vanno male. A meno che non ci sia una, diciamo, una drammatica evasione dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza che però come voi sapete tarda, cioè generalmente si corregge quando i buoi sono scappati oppure quando le regioni sono in deficit e quindi questo è qualcosa da correggere. Io non ho una ricetta perché chiaramente sapete che la riforma costituzionale sarebbe forse la cosa migliore ma anche in assenza di riforma costituzionale qualcosa va fatto. La seconda osservazione è questo, che sempre più persone fanno affidamento su assicurazioni private o fondi sanitari integrativi per ovviare ad alcune carenze del servizio sanitario nazionale. Ma stiamo rischiando di arrivare a una situazione britannica, cioè a favore, diciamo, del libero mercato piuttosto che... Allora, lì c'è purtroppo, io lo dico perché l'Inghilterra è la mia seconda patria, io lavoro e continuo a lavorare lì, lì purtroppo c'è un governo che non ha mai creduto nel servizio sanitario nazionale. Bisogna dirlo che il partito conservatore non ci ha mai creduto, è stato sempre il partito laborista, il partito che ha creato e consolidato il servizio sanitario nazionale e purtroppo lì c'è non una strisciante, una brutale privatizzazione. La privatizzazione dei servizi sociali è un dato di fatto. Adesso pensate che, per esempio, si sta privatizzando anche parte importante dell'assistenza sanitaria, ma pensate adesso i miei amici mi hanno detto una cosa incredibile, che il sistema Erasmus, che era un sistema, come voi sapete, di trasferimento degli studenti viene sostituito da un sistema privato, cioè il sistema di gestione dei medici di medicina generale era un sistema privato. Noi dobbiamo evitare tutto questo, però come lo evitiamo? Con un accordo importante tra politica e scienza. Grazie. Ministro, a lei. Intanto sono molto contento di essere qui con voi, mi fa molto piacere e voglio subito esprimere gratitudine a Walter per il lavoro fatto e per questo ulteriore contributo al dibattito pubblico nel nostro Paese. Ringrazio anche l'editore che ha fatto una scelta, credo, opportuna, quella di offrire un momento di riflessione, di analisi su, credo, il patrimonio più prezioso di cui noi disponiamo. L'occasione mi è anche utile per ringraziare il professor Ricciardi per il lavoro che ha svolto al servizio del Paese. Credo che abbiamo trascorso insieme mesi senza precedenti che forse nessuno di noi poteva in qualche modo preventivare. Vedo qui anche il professor Antonelli che è stato con noi in quei mesi complicatissimi in cui il Paese, il CTS, le istituzioni, l'accademia, la scienza si sono trovati di fronte a questa sfida davvero senza precedenti e io credo che si è costruito davvero un rapporto di grandissima sintonia basato sempre sul primato dell'evidenza scientifica e sulla necessità di definire e costruire soluzioni possibili nell'interesse esclusivo del Paese. Quando un Ministro della Repubblica giura di fronte al Presidente della Repubblica usa una formula in cui si riconosce il primato dell'interesse supremo del nostro Paese, io credo che questo ci ha sempre guidato e credo che alla fine ancora oggi pur in un clima tutt'altro che semplice questo continua a guidarci in ogni passaggio, in ogni istante. Io ho letto con attenzione questo libro di cui ho avuto prima copia già svariati mesi fa, l'ho rivisto per la verità nella giornata di ieri e credo che ci siano le due cose essenziali per provare a guardare il nostro futuro. La prima che è quella se volete più semplice ma forse è anche la più importante. Abbiamo bisogno di tenere i piedi ben piantati nella cultura costituzionale del nostro servizio sanitario nazionale. È il primo pezzo dell'intervento fatto anche qui da dal Professor Ricciardi. Il nostro modello di servizio sanitario nazionale è un modello improntato all'idea di universalità nata in qualche modo nella riflessione britannica dell'immediato dopo guerra, beverage, l'idea del National Health Service da cui poi deriva in qualche modo il nostro servizio sanitario nazionale. È un'idea confermata nella Carta Costituzionale dell'articolo 32 dove si dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, come interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Se ci pensate i nostri padri costituenti in queste poche righe, perché sono davvero poche righe, ci hanno detto che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Spesso si dice la Costituzione è un programma di governo, è un progetto. Bene, in queste poche righe c'è un programma di governo straordinario per cui io penso che chi gestisce il nostro servizio sanitario nazionale non deve inventarsi l'obiettivo, la finalità, ma solo le strade per arrivare a quel punto lì, ma l'obiettivo e il traguardo è già ben definito. Ed è chiaro che la parola chiave è la parola individuo. Individuo coincide con essere umano. Significa che il diritto alla salute è un diritto universale. Di fronte a una persona che sta male tutte le condizioni decadono, se non quella che sei di fronte ad un essere umano. Quindi se una persona sta male non conta quanti soldi hai, di chi sei figlio, dove sei nato, il colore della tua pelle, ma hai semplicemente diritto ad essere curato. Questa è l'universalità del nostro servizio sanitario nazionale. Non è così in tutto il mondo. Ci sono aree del mondo dove hai l'assicurazione, hai la carta di credito oppure non ti curi. Noi dobbiamo difendere fino in fondo il nostro impianto di universalità. E mi sembra che il primo pezzo, diciamo, di riflessione di questo testo è pienamente dentro questa consapevolezza. Quindi non è in discussione l'impianto fondamentale. Quello ci convince, è l'impianto della Costituzione, è l'impianto della legge del 1978, voluta in modo particolare da Tina Anselmi, che considero probabilmente la personalità più importante della storia del nostro servizio sanitario nazionale. È la ministra che ha in qualche modo messo in campo la prima idea reale, concreta di costruzione di un servizio sanitario nazionale. E poi c'è il secondo punto nel libro di Walter, nel libro insomma che oggi in qualche modo presentiamo. E cioè come sulla base di questo impianto, che non è in discussione, noi rafforziamo strumenti, modalità, attitudini, relazioni istituzionali, che ci consentono di rendere quel testo di programma della Costituzione realtà. Che cosa dovrebbe fare un ministro della Sanità? Io l'ho detto il primo giorno che ho incontrato i miei collaboratori al Ministero e lo ribadisco ogni volta che lo vedo. Li vedo. Ogni giorno noi dovremmo lavorare per avvicinare la vita concreta delle persone ai principi della nostra Costituzione. Questo è il nostro obiettivo. Quindi noi dovremmo ogni giorno spostare anche di un millimetro, di un centimetro l'orizzonte per avvicinarci al modello universale che in qualche modo ho provato ad indicare. Come farlo? Qui ci sono tutta una serie di temi, noi ne abbiamo discusso lungamente in molte occasioni. Io credo che siano svariati i punti su cui metter mano. Mi convince molto l'indice che veniva prima riportato. Parto da un punto che per me è quello davvero fondamentale. Le risorse umane. Guai a mettere le risorse umane in contraddizione con tutto ciò che non è risorse umane e che poi in realtà deriva da altre risorse umane. Penso alla sanità digitale, penso ai dati, all'ammodernamento tecnologico, sfide enormi su cui il Paese deve anche recuperare un ritardo che in qualche modo si è accumulato negli anni. Però se dovessi dire qual è la cosa essenziale, io penso che la cosa essenziale abbia a che fare con le risorse umane. Questo è il primo punto fondamentale. Suspinta anche di Walter, in collaborazione anche con Walter, io mi sono battuto in maniera terrificante per aumentare le borse di studio di specializzazione per i nostri giovani medici. Avevamo un imbuto formativo che era senza precedenti. Io lo consideravo in qualche modo un delitto del nostro Paese. Cioè immaginare che noi davamo la laurea in medicina a migliaia e migliaia di giovani e però che questi non potessero entrare nel servizio sanitario nazionale perché non c'erano le borse di specializzazione. Ed era nata questa perifrasi piuttosto infelice di imbuto formativo. Una cosa diciamo che a raccontarla per esempio in Europa sarebbe abbastanza complicato anche tradurre le parole. Per cui ragazzi laureati, con fatica loro, con fatica delle famiglie, investimenti economici delle famiglie e fatica anche dello Stato perché per noi laureare una persona non è una passeggiata, significa fare un investimento. E alla fine questi qui laureati non riuscivano a entrare nel servizio sanitario nazionale. In due anni e mezzo abbiamo affrontato di petto questo problema, abbiamo investito quest'anno 17.400 borse, il triplo di tre anni fa, il doppio di due anni fa, l'anno scorso 13.400, prima le borse erano 5.6 mila. Sostanzialmente il passato lo abbiamo risolto e oggi stabilizziamo 12.000 borse anno che ci serviranno per il futuro. Io penso che la questione risorse umane è davvero la principale e purtroppo noi non abbiamo risolto ancora tutti i problemi perché abbiamo una norma che è stata vigente per 15 anni che ha bloccato la spesa per il personale sanitario a quella del 2004 meno 1,4%. Anche questa, a spiegarla in giro, si fa un po' di fatica. Cioè mentre nel Paese si alimentava la retorica degli eroi, i medici eroi, gli infermieri eroi, i nostri eroi, nella sostanza avevamo una norma che diceva alle regioni, alle aziende sanitarie non potete spendere sugli eroi più di quello che avete speso nel 2004, meno 1,4%. Una follia. Io penso che su questo dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo ancora insistere per superare un modello di programmazione della spesa che è un grande tema sul tavolo. Io penso che il modello di programmazione della spesa sanitaria costruito negli anni per silos chiusi e tetti di spesa sia un modello che non regge più, è figlio di una stagione che non c'è più. Quindi io penso che questo è il primo grande ambito di lavoro. Come si fa? Qui c'è una traccia anche nel testo, non solo nelle ultime parole che sono state lette prima dal dottor Mottola, ma anche nello spirito, se volete, della presentazione fatta da Walter. Noi dovremmo provare a rovesciare la crisi in un'opportunità. Qual è la grande sfida del Paese oggi? Del Paese secondo me in senso largo e soprattutto del Paese che si occupa di sanità. Trasformare la crisi più tremenda che abbiamo affrontato probabilmente negli ultimi decenni, perché è una crisi senza precedenti, in un'opportunità vera di ripartenza e di rilancio. Questa è la grande sfida. Io penso che ci sono condizioni davvero senza precedenti. L'operazione delle borse di studio di specializzazione che vi ho raccontato velocemente nei numeri, se me l'avessero raccontata a ottobre del 19, io ho giurato a settembre del 19, quando ero già iniziato, avevo già iniziato ad essere consapevole che quello era un problema, forse io stesso non avrei ritenuto immaginabile in un tempo così breve un salto così incredibile nei numeri. Alle volte però nella vita delle persone e nella vita delle comunità entra la storia e questa è una condizione straordinaria che avviene poche volte, secondo me, nelle esistenze delle comunità e delle persone, in cui la storia ti entra in casa e cambia totalmente gli equilibri. Parlando all'editore, io direi, se ha scelto 10-15 titoli, probabilmente questo titolo è il titolo più importante, perché la storia di questo anno e mezzo ha cambiato lo stato delle priorità, l'ordine delle priorità e la sanità pubblica, il servizio sanitario nazionale, che è stato tradizionalmente considerato sì importante ma non la cosa più rilevante, è d'un tratto invece diventato la cosa più importante con cui dobbiamo fare i conti. Cioè oggi il Ministro della Salute ha molta più facilità a dire basta tagli, bisogna ricominciare ad investire, ha molta più forza nel provare a convincere per esempio tutti gli altri Ministri che se c'è un investimento da fare, se c'è un euro disponibile, dobbiamo metterlo sul nostro servizio sanitario nazionale. La storia di questo anno e mezzo ha cambiato l'ordine delle priorità. Io dico spesso ai miei colleghi per troppi anni le tabelle Excel degli uffici di bilancio hanno deciso quanto diritto alla salute si poteva tutelare. La storia di questi mesi rovescia l'ordine di priorità e oggi io sono forte nell'affermare invece che bisogna rovesciare quello schema. Non sono le tabelle Excel che ci dicono quanto diritto alla salute possiamo garantire ma è la quantità di diritto alla salute che dobbiamo garantire a decidere cosa c'è scritto nelle tabelle Excel. Questo guardate significa fare una enorme rivoluzione culturale e dire che le risorse che si mettono sulla salute non sono semplice spesa pubblica o sprechi come alcune volte si è detto largamente ma sono il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. Parole? No. Io penso che ci siano già fatti in campo velocissimamente. Poi voglio lasciare lo spazio che alla dottoressa Berti più tardi dovrò raggiungere il Quirinale perché c'è una giornata importante. Il Presidente della Repubblica saluta le alte cariche dello Stato. Ma numeri perché i numeri sono fondamentali. Io divento Ministro della Salute a settembre del 19 sul Fondo Sanitario Nazionale. ci sono 114 miliardi di euro. Il Fondo Sanitario Nazionale sono, la dico grossolanamente, i soldi, l'ammontare di risorse che lo Stato mette sulla sanità nel nostro Paese. 114 miliardi. Mediamente negli anni precedenti si metteva un miliardo in più all'anno. Io faccio una battaglia, il Covid non c'era e in quei primi mesi porto a casa un raddoppio dei fondi, non più un miliardo in più ma due miliardi in più e l'abolizione del super ticket che mi pareva una cosa in linea con i principi della nostra Costituzione. Cioè l'idea che alla fine se devi farti un'analisi, una visita, non devi pagare quei 10 euro in più. Molti mi dissero, bene, un grande passo avanti, più 100%, da un miliardo a due miliardi. Arriva il Covid, cambia le nostre vite, stravolge le nostre abitudini. In 12 mesi arrivano 10 miliardi di cui sei a regime sul Fondo Sanitario Nazionale, in più rispetto a quelli previsti. Poi arriva il 2021 e nel 2021 noi portiamo 20 miliardi del PNRR che arrivano diciamo anche in questo caso con una svolta da parte dell'Europa. L'Europa che nelle primissime giornate che io e Walter abbiamo vissuto diciamo con una certa ansia e preoccupazione, ricordo il primo viaggio insieme a Bruxelles in una riunione che io avevo chiesto ai Ministri della Salute dell'Unione Europea, l'Europa aveva diciamo qualche perplessità a capire fino in fondo la difficoltà di questo passaggio e di questo momento. Dopo quelle prime settimane l'Europa capisce fino in fondo e consuma quella che secondo me è stata una svolta storica. Il recovery è una svolta storica. Io riconosco diciamo una funzione straordinariamente positiva alla von der Leyen che poi ha avuto il coraggio di un'operazione così forte. Questo porta a 20 miliardi in un colpo solo. Ora guardate questa fotografia, un miliardo in più quando arrivo, battaglia per arrivare a 2, poi 10 miliardi nel 20, 20 miliardi nel 21 e in più perché i 20 miliardi sono risorse straordinarie. Ora approviamo una legge di bilancio in cui nel 2022 abbiamo 124 miliardi, cioè siamo passati in due anni e qualche mese da 114 a 124 solo di fondi ordinari più i 20 miliardi del PNRR. Tante risorse insieme, in un colpo solo, oggettivamente, non è un giudizio politico, perché poi sulla politica ci si può dividere e pensarla diversamente, ma tante risorse insieme, oggettivamente non si erano mai viste. Ora qual è il punto? Bastano le risorse? Sono sufficienti le risorse? Io penso di no. Penso che le risorse sono condizione necessaria. Senza risorse non si va da nessuna parte, ma che da sole non siano condizione sufficiente e che insieme alle risorse dobbiamo avere il coraggio di fare le riforme provando a capire con coraggio, anche con grandissima umiltà, perché nessuno ha la bacchetta magica, nessuno pensa di avere la soluzione in testa da solo e c'è bisogno di un grande confronto col mondo della sanità, col mondo della conoscenza, anche con i nostri ordini, le nostre professioni, le nostre imprese, il mondo della ricerca, per capire come usiamo queste risorse. Cioè se un ammontare così non è mai arrivato prima e noi siamo consapevoli che alcune cose vanno, ma alcune non vanno, dobbiamo anche avere il coraggio di mettere mano. E qui alcuni punti sono stati toccati. Uno, la grande questione dell'assistenza territoriale. Questo è un nodo enorme, noi prendiamo 7 miliardi e li mettiamo tutti sull'assistenza territoriale, che è stato uno dei punti di sofferenza maggiori anche nella prima fase del Covid. Dobbiamo rafforzare l'assistenza domiciliare. Se i numeri che abbiamo visto sono veri e sono veri sulla lunga vita degli italiani, grazie a Dio, noi abbiamo un'aspettativa di vita tra le più alte del mondo e una popolazione che di conseguenza è tra le più anziane del mondo, non ci possiamo permettere di avere due punti meno della media oxe dell'assistenza domiciliare delle persone sopra i 65 anni. Questa cosa non tiene. E allora facciamo un investimento di 4 miliardi in cui investiamo sull'assistenza domiciliare. Io voglio portare l'Italia col PNRR da essere un paese che è a meno 2 rispetto all'oxe sull'assistenza domiciliare, l'oxe al 6%, noi siamo al 4, fino a qualche mese fa eravamo al 4, ad essere il primo paese d'Europa col 10%. I migliori modelli in Europa sono Svezia e Germania col 9. Risorse concrete che possono cambiare la vita delle persone, perché quando hai più di 65 anni, avere assistenza domiciliare ti può cambiare la qualità della vita a te che hai più di 65 anni e ai tuoi figli, i tuoi nipoti, le persone diciamo più giovani che spesso in un sistema italiano ancora almeno parzialmente incentrato sulle reti familiari, può aiutare in maniera significativa. Due miliardi sulle case di comunità. Le case di comunità sono per me, Walter, fondamentali perché rispondono anche a una delle sfide che tu hai posto. Assistenza sociale e assistenza sanitaria. Che cosa abbiamo imparato in questi mesi? Che assistenza sanitaria e assistenza sociale non possono essere considerate due cose distinte come troppo a lungo avvenuto nel nostro paese. Dove trovi un problema sociale quasi sempre ti arriva un problema sanitario. Dove c'è un problema sanitario molto spesso c'è già un problema sociale o ti arriva un problema sociale. E perché le abbiamo chiamate case di comunità e non case della salute? Perché in quella casa di comunità io ci voglio mettere la primissima assistenza sanitaria ma anche la prima cresa in carico sociale. E per questo non ci stanno solo le regioni ma nelle case di comunità ci devono stare pure i comuni. Perché se le politiche sociali sono competenza dei comuni la casa di comunità deve essere un luogo di presa in carico della persona, dell'individuo nel suo complesso dove noi ci facciamo carico della questione sanitaria e della questione sociale. O ancora gli ospedali di comunità che servono per le cure intermedie. Poi chiaramente c'è tutta la parte sulle reti, sulla modernamento tecnologico, sulla telemedicina. Anche qui si scrivono cose assolutamente rilevanti. Io penso per esempio, questo è un grande tema che spero avremo la forza di affrontare come Paese, il tema dei dati. I dati sono la più clamorosa ricchezza del Servizio Sanitario Nazionale. Noi dobbiamo usarli meglio e di più. Oggi i dati sono una ricchezza incommensurabile, sono una ricchezza straordinaria. I dati del Servizio Sanitario Nazionale sono dati ricchissimi di conoscenza che ci possono mettere nelle condizioni, per esempio, di costruire modelli predittivi. Se io ho dati che mi arrivano ogni giorno dagli ospedali, attraverso cui posso leggere le varie curve epidemiologiche del Paese in diversi ambiti, io posso costruire modelli predittivi che mi consentono di capire dove metto le risorse, non tra un minuto, non nella legge di bilancio che si approva tra un'ora, ma nei prossimi 5-10 anni. Allora l'ho fatta forse fin troppo lunga, però vorrei consegnare questa riflessione di fondo. Io penso che stiamo ad un passaggio cruciale della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Il passaggio cruciale è dovuto alla brutalità, alla drammaticità dell'ultimo anno e mezzo che ha toccato le coscienze di tutto il mondo e che però tra le tante cose negative che ci ha lasciato, tra le tante ferite, ci ha lasciato una cosa che credo dobbiamo valorizzare, che io penso sia questa enorme consapevolezza. Oggi c'è una consapevolezza che non c'era prima. Quando ciascuno di noi dice bisogna investire di più in salute, trova un terreno incredibilmente più pronto a recepire questo messaggio. E allora io penso che dobbiamo provare a mettere a sistema esattamente questo passaggio. E il testo di oggi a me sembra un contributo, perché mi pare che indichi nel fondo le scelte strategiche che andranno costruite, definite ed accompagnate. Quindi sono lieto di aver potuto dare questo mio contributo. Sono contento di essere qui con Walter, che stimo molto, con cui dobbiamo continuare ancora a fare tanto nell'interesse del Paese. E penso che insieme, soprattutto chi vive questo mondo per ragioni accademiche, per ragioni scientifiche, per ragioni politiche, per ragioni editoriali, per ragioni di scelta di vita, perché penso che in questa sala ci siano persone che qualche modo hanno fatto una scelta di vita che è di investimento del proprio futuro dentro la nostra sanità, nel nostro servizio sanitario nazionale. Noi dobbiamo provare a dare fino in fondo questo messaggio al Paese. Abbiamo un patrimonio prezioso che dobbiamo difendere col coltello tra i denti, abbiamo risorse che non c'erano prima e il momento di metterci mano davvero e di provare, diciamo, a valorizzare questa potenzialità incredibile di cui disponiamo, che alla fine è la cosa, penso, più bella che ci hanno lasciato i nostri padri costituenti e che dobbiamo ancora provare a rafforzare per il futuro. Grazie. Grazie al Ministro. Una sola cosa rapidissima perché so che deve scappare, proprio rapidissima. No, il problema sarà quello di mantenere questa consapevolezza alta perché la politica spesso ha memoria corta. Questo è un po' il punto, no? Ecco, e quindi bisognerà trovare il sistema perché queste risorse non saranno eterne, naturalmente, quindi bisogna utilizzarle bene, ma mantenere questa consapevolezza e mantenere una memoria un pochino più lunga di quella delle... e questo non sarà una cosa facile, immagino. Questo era... No, sì, sicuramente è un grande tema. Infatti io dico, intanto dobbiamo battere il ferro ora, che è molto caldo e non sprecare questa occasione. C'è una frase che io ripeto spesso e che credo tanti di voi conoscano, che è stata pronunciata da Papa Francesco in quella piazza indimenticabile di San Pietro in un pomeriggio della passata primavera. Ricordo questa piazza bagnata e questa figura anche indimenticabile del Papa. Lui disse, peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Pensateci un attimo, poche parole, peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Io vorrei che questa frase fosse scritta, diciamo, nella nostra testa e sulle pareti di tutti gli spazi in cui si prendono decisioni politiche, istituzionali, accademiche. E' vero che le persone hanno spesso la memoria corta, che passano velocemente le cose, però la frattura è stata tremenda, cioè è cambiata la vita di tutti a livello globale. Pensateci per un istante. E' stato più difficile tutto, è stato più difficile fare l'editore, perché le librerie per una fase sono state chiuse. E' stato più difficile fare lo studente, perché per lunghi tratti siete stati costretti a stare in DAD. E' stato più difficile fare il ristoratore, fare il cameriere. E' stato più difficile svolgere qualsiasi ruolo nel mondo. Il giornalista, probabilmente. Era più difficile fare un'intervista dal vivo, no? Non parliamo di fare il ministro. Penso che, tra virgolette, il colpo, la cesura è stata così netta che questa volta la memoria durerà almeno un po' di più. La nostra capacità deve essere però tenere viva questa memoria, tenere viva questa lezione e portare nel più breve tempo possibile questa lezione a concretezza di reazione. Quando vi ho disegnato quei numeri, 1, 2, 10, 20, penso che sono i numeri di una reazione all'altezza. Poi non dico che bastano. Io spero, per esempio, che nelle prossime annualità si possa ancora crescere. 124 miliardi nel 2022, poi 26 nel 23 e 28 nel 24. Io spero che si potrà ancora lavorare in un rapporto governo-parlamento nei prossimi anni per far crescere ulteriormente. Però la sensazione è che la consapevolezza del primato del Servizio Sanitario Nazionale e del primato della salute questa volta è entrata davvero in profondità perché ha cambiato la vita di tutte le persone. E quindi noi veramente abbiamo una clamorosa opportunità e dobbiamo metterci tutte le energie che abbiamo. E veramente il tempo è qui e ora e per chiudere davvero. Per questo io penso che serve un grande patto. Io la sto dicendo così, il Presidente del Consiglio Draghi l'ha detta così in varie occasioni. Cioè questo è il momento. Se veramente un momento così straordinario serve un grande patto paese. Non dobbiamo dividerci mai se tramondi. La politica, le istituzioni devono fare fino in fondo la loro parte, hanno un ruolo importante, ma non bastano. C'è bisogno delle professioni, c'è bisogno degli ordini, c'è bisogno dei sindacati che rappresentano queste professioni, c'è bisogno delle imprese che abbiamo visto svolgono un ruolo straordinario. Che cosa sarebbe stata? La campagna di vaccinazione senza anche gli investimenti che le imprese hanno messo in campo in modo straordinario, con una capacità di innovazione probabilmente senza precedenti. Il mondo della conoscenza, della ricerca, negli ambiti più variegati, l'università, gli istituti di ricerca, le società scientifiche nazionali e internazionali, le reti internazionali. Io per esempio sono affascinato in maniera straordinaria dalla capacità del nostro mondo della conoscenza di stare in una rete internazionale dove i confini non esistono più. Walter ne è in qualche modo un emblema anche per le relazioni che ha, il ruolo anche in altri paesi europei, il ruolo nella società scientifica di sanità pubblica mondiale. Cioè la ricerca, cioè chi pensa alla ricerca in un paese solo è matto. Cioè la ricerca è automaticamente e naturalmente la connessione di reti straordinarie internazionali. Il lavoro che faccio io di ministro in queste ore è un lavoro di connessione quotidiana con gli altri ministri. Non c'è giorno che io non sento i ministri degli altri paesi europei e del mondo, perché la battaglia che abbiamo di fronte a noi è una grande battaglia globale e solo un illuso può pensare di risolverla dentro i confini di un paese. Io penso che questo sia il terreno su cui dobbiamo muoverci. Allora io per chiudere sono più ottimista di altre volte, capisco la domanda sulla memoria corta, però penso che la ferita è stata così profonda che questa volta ci sono le condizioni per un cambio di paradigma, per dirla come la diceva Kuhn, cioè un cambio radicale in cui davvero si passa diciamo da una fase, una stagione a una che è basata su parametri diversi. E io penso che questo sia davvero il momento e che qui e ora si possono costruire condizioni per cambiare davvero le cose. Grazie. Grazie, grazie veramente anche per questo, per questa visione così positiva e ottimistica perché dobbiamo assolutamente proteggere questo sistema sanitario nazionale che è qualcosa di veramente prezioso, mettere al centro come si diceva le risorse umane e comunque utilizzare questa crisi come un'opportunità. Io vi ringrazio se Walter voleva dire qualcosa in più, quindi grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie.